Alzati, Barris Offee. Lynn. Non mi chiamano più con quel nome. Le cose sono cambiate. Che cosa vuole il Consiglio dei Jedi? Non sono qui per conto del Consiglio. Stai scontando una condanna a vita per crimini contro la Repubblica. Ma al tuo processo hai accusato i Jedi di omicidio e tradimento. Sembra che tu avessi ragione. I Jedi tentano di assassinare il Cancelliere Palpatine. Questo come riguarda a me? Ti riguarda dal momento che sono qui per darti un'opportunità, Barris. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.